Una classifica del Censys analizza le università abruzzesi e secondo i dati relativi all'anno accademico in corso 2015-2016, gli Atenei dell'Aquila e di Chieti Pescara sprofondano sotto la classifica dopo le università più grandi. Va meglio invece all'Università di Teramo, che si piazza in quarta posizione nella classifica dei piccoli Atenei, mentre per quanto riguarda la ricerca, male per tutte le università abruzzesi. L'Ateneo dell'Aquila e Chieti Pescara sono inserite nel Censys nella graduatoria delle grandi università, quelle riferite ad Atenei che contano tra i 20.000 e i 40.000 iscritti. Sul podio Perugia, Pavia e l'Università della Calabria. L'Ateneo dell'Aquila in questa classifica si colloca terzultimo, con 76,6 punti, mentre Chieti Pescara penultima. Peggio di loro sono l'Università di Napoli. L'analisi si riferisce anche a strutture e servizi e analizzando i dati il punteggio più basso per l'Aquila è relativo alle strutture e servizi. Chiaramente l'Ateneo aquilano conta ancora i danni relativi al terremoto, che ovviamente hanno portato ad una ricollocazione e dunque la parte logistica, è senz'altro segnata e penalizzata da questa vicenda, anche se c'è da dire che l'Ateneo pian piano sta recuperando le sedie originarie. Per quanto riguarda invece l'internazionalizzazione, meglio l'Aquila rispetto all'adannunzio, anche se la distanza con altre università italiane è molto profonda ancora. Risultati più positivi invece arrivano per l'Ateneo di Teramo, che si piazza al quarto posto nella classifica dei piccoli Atenei, quelli cioè che non superano i 10.000 iscritti. Il Censys nella sua analisi ha dato un posto speciale poi alla ricerca scientifica. Su 50 università nell'area di ricerca delle scienze matematiche e informatiche, l'Aquila è tredicesima, Chieti-Pescara penultima. Nell'area delle scienze fisiche, su 41 università, l'Aquila è trentaquattresima, nelle scienze chimiche trentaduesima, terz'ultima nelle scienze biologiche e anche per la ricerca di scienze mediche male, anche Chieti-Pescara in questo campo. Interessante è il dato nel cantiere più grande d'Europa. Nella ricerca nell'ambito dell'ingegneria civile e dell'architettura, l'Aquila è al diciassettesimo posto, su 41 facoltà, per le materie umanistiche al trentanovesimo posto. Le università nel loro complesso sono state giudicate in base a cinque parametri. I servizi, come per esempio le mense, i pasti, il numero di posti letto per gli ischietti da fuori regione, le borse e contributi, ovvero la spesa degli Atenei e degli Enti, del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti, le strutture con punteggio assegnate in base ai posti disponibili nelle aule, nelle biblioteche e nei laboratori, infine il web con punteggio ai siti internet degli Atenei, in base a 86 indicatori dalla funzionalità ai servizi online, per esempio l'iscrizione e pagamento tasse, passando per l'accessibilità e la presenza di informazioni in lingua straniera, e poi l'internazionalizzazione, ovvero il numero degli iscritti stranieri, gli studenti che hanno trascorso un periodo all'estero per studio telecinio, spesa a favore della mobilità internazionale.